Ripopolamento della provincia di Belluno si parte dalle ronce. Il gruppo azione locale Belluno Alpina, da sempre impegnato nel rilancio della zona di Pian del Monte e Tassei, ha delineato in sinergia con comune e provincia una serie di attività per fermare lo spopolamento e incentivare la rinascita di un'area che dagli anni 50 ad oggi ha ridotto drasticamente i suoi abitanti. Il progetto pilota coinvolge anche i comuni di Ponte nelle Alpi e Limana. I primissimi progetti sono quei progetti che sono possibili fare, progetti concreti con manutenzioni che mettono in relazione i tre comuni e con progetti tipo, oggi ne parlavamo di un collegamento tra il Nevegal, Ronce e Valmorel con un sentiero a mezza costa. Questi sono i progetti che sono possibili, i progetti che speriamo di portare avanti sono quelli che cerchiamo di realizzare relazionandoci con altri enti più superiori, tipo Regione, Stato, con i nostri parlamentari. Viabilità e trasporti, cura del territorio, valorizzazione dell'agricoltura e dell'allevamento. Le idee sono tante e il gruppo Belluno Alpina, per attuarle, si affida anche all'intraprendenza di chi questa zona la abita e la vive quotidianamente. Sono zone rurali dove una volta le famiglie vivevano con due bestie in stalla, tre bestie in stalla, dieci bestie in stalla e vivevano prettamente di agricoltura e di questo. Adesso in qualche modo bisogna trovare il sistema di convertire gli edifici e tutto quello che è l'ambiente naturale in affittacamere per fare un esempio concreto. Con gli abitanti ho interagito e siamo riusciti a risolvere delle problematiche importanti che altrimenti potevamo risolvere ma siamo andati proprio nello specifico capire dove dovevamo intervenire.